Nel nuovo negozio di Villa Olimpia a Pallanza tutto è gratis e le parole d'ordine sono riutilizzo, lotta allo spreco e ridare nuova dignità agli oggetti usati. E' stato inaugurato Wabi Sabi, il free shop voluto dall'amministrazione comunale di Verbagna e in particolare dall'assessore alle politiche sociali Marinella Franzetti con il contributo della fondazione comunitaria del VCO. Vi si possono portare oggetti non più in uso e prendere gratuitamente ciò che serve. Wabi Sabi è un negozio di oggetti di seconda mano dove i prodotti sono disponibili gratis senza alcuna transazione economica per offrire un'alternativa al sistema consumistico, ridurre gli sprechi e donare nuova dignità agli oggetti usati oltre che creare una rete sociale di scambio e condivisione di cultura e conoscenze. L'obiettivo del free shop infatti è quello di prendere esclusivamente le cose che possono davvero servire anche temporaneamente senza consumare o accumulare beni in modo fine a se stesso. Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Usufruire dei servizi non comporta alcun costo ma solamente una veloce procedura di registrazione e la presa a visione del regolamento. Si possono consegnare abbigliamento, biancheria, stoviglie, libri, fumetti, DVD, CD, accessori per informatica, arredi e complementi di arredo come scrivanie, sedi, armadi, PC, televisori e smartphone.